Salve io sono Pio e bentornati nella mappa Parkour Limbo Signori come vedete ci troviamo ancora su questo bruttissimo, cioè oddio non è bruttissimo, più che altro è piccolissimo balconcino di merda Dove nello scorso episodio ho, non dico bestemmiato per arrivare qui però quasi, visto che comunque un paio di volte sono caduto poi sono riuscito a farlo proprio per puro culo, salto del cazzo E adesso dobbiamo andare avanti, come avete visto già dalla fine dello scorso episodio in questo caso dobbiamo riuscire a superare questa parte Andare qui e penso poi fare questo parkour qui, per andare non so dove in realtà, ma che ci sto pensando Però niente lo scopriremo vivendo, quindi dobbiamo fare tipo così, ok per fortuna pensavo di essere caduto Limbo indica che devo andare da quella parte, quindi direi che faccio tipo così, porco dio, porco dio, porco dio E niente, adesso mi devo rifare tutto, bene, cioè bene un paio di palle, male, male, molto male Ma la vera domanda è, quando arrivo tipo qua, visto che le frecce indicano di andare da questa parte, dove devo andare? Perché lì c'è l'apertura di un blocco, che comunque lì non ci posso andare E qui sopra non credo di poter andare da nessuna parte E lì a quanto pare nemmeno, a meno che non devo saltare tipo lì davanti, ma no perché lì si può solo scendere E quindi tutto sto casino per andare esattamente dove, no così giusto per capire Perché lì non ci posso entrare, che cazzo devo fare? Cioè che sono arrivato qui, oh e ciao signore armature, io mi ero completamente dimenticato di voi Ma se vado tipo avanti, no, non si può andare, non si può tipo, non lo so, in qualche modo Cittare fra molte parentesi per tipo uscire, no, ok E niente, vabbè, adesso che arriviamo qui sopra, dove cazzo si va? Oh vabbè, lo scopriremo solo vivendo Direi che adesso bestemi un bel po' per rifare tutto il parkour e ritornare lì Mannaggia la miseria, un cazzo di checkpoint di merda lo potevano pure mettere E niente, direi che poi ci vediamo dopo perché se no ci metto tre anni solo per fare questa parte Fra l'altro io, mo che ci penso? Non ho fatto partire il timer, mannaggia la miseria E niente, vabbè, mettiamo 13 minuti, tanto penso un paio di minuti li ho già registrati E niente, adesso, e fra l'altro ho fatto partire inutilmente perché mo che ci penso? Lo devo stoppare, mo che mi metto off camera, mannaggia Dio Boh vabbè, niente signori, ci vediamo come riesco ad arrivare nuovamente lì sopra, a dopo Allora signori, sono ritornato qui sopra, ora due cose No, nello scorso episodio non c'era la musichetta, adesso stranamente sto sentendo la musichetta in sottofondo Due, mi è sembrato di vedere, mi sono messo lì sotto prima saltando, ho visto e mi è sembrato Che lì dietro ci sia spazio, cioè tipo sia aperto, mannaggia Dio, vaffanculo, soccoso di merda Comunque sì signori, lì dietro è aperto, quindi vuol dire che devo fare i salti non da questa parte Ma da questa qui, in modo tale da arrivare lì, dove io pensavo fosse tipo chiuso perché quello mi sembrava un muro In realtà è aperto, quindi niente, si va lì dietro Però porco Dio, mo devo rifare tutto per tornare lì sopra, che due coglioni Porca madonna, che fastidio, vaffanculo, gioco di merda, che palle, metti un cazzo di checkpoint Cioè non gioco di merda, mappa di merda, vabbè pure gioco di merda perché ogni tanto la corsa non funziona O il mio Steve si viene e cade dai blocchi anche se sono shiftato Però anche mappa di merda soprattutto, sta mappa del cazzo, vaffanculo Vabbè niente, torno lì sopra fra non so quanto, dico, penso ci metterò un'altra mezz'ora E poi riprendo da lì, a dopo E come è tornato qui signori, dopo non so quante bestemmie, maledizione, santo Dio Adesso cerchiamo di non cadere, perfetto Cerchiamo di fare la stessa cosa qui, ottimo Quindi penso di dover fare così, esatto Porco Dio, e qui però se cado dove vado No perché io sinceramente non voglio rischiare Sono pure curioso di vedere dove si va, eh Oddio pensavo di star volando questa era la scaletta, ok E niente, qui c'è una trap d'ora aperta Che non ho la minima idea di dove porti Io sarei curioso di vedere Ma sono abbastanza sicuro che poi devo bestemmiare per fare Non si sa che giro rifare il parkour Quindi sinceramente non me la voglio neanche rischiare Andiamo direttamente qui sopra dove c'è una porta chiusa, ovviamente Dove, eh, sì, non si sa perché Qui fra l'altro potevano mettere un altro muretto anziché le scale che stanno veramente male Ma penso di dover andare da questa parte Approach the King, che significa di parlare con il re? Può essere? Knoudel? Che cazzo è? È diventato tedesco tutto un tratto Knoudel Così proprio cattivissima una parola E niente, dobbiamo parlare col King? King, ciao, 24 di carta, bird degli smeraldi Ho 9 smeraldi, bird delle bushelfe Guarda, io c'ho del grano e dei semini Più di questo non ti posso dare Scegli o grano o semini Scegli tu Vabbè, approcci dei King Cioè, che devo fare? Cioè, io ci parlo con il re Ma non penso sia interessato a quello che gli posso offrire Voglio dire, cioè, quello c'ho tutto Vabbè, niente, chiudiamo qua sta merda Perché altro non penso mi serva E credo di dover fare qualche parkour Sopra questi blocchi Perché altrimenti non ne ho la minima idea Tra l'altro qui vedo un blocco viola Che credo serva a volare Ma qualcosa mi dice che tipo Mi serve per volare sopra quelle trapdoor Che però devo aprire in non so quale modo Quindi è bene ma non benissimo Perciò cerchiamo di capire dove si va Allora, vediamo delle porte No, vedogli una scala Che non ho idea di come ci si arrivi Visto che effettivamente non c'è un blocco per arrivarci Tra l'altro qui ci sono delle porte che non ho visto Quindi magari c'è qualcosa qui Assolutamente no Si affacciano Non si approcciano Si affacciano Su quello che credo sia un cortile Con una specie di tendone Dove vedo tanto tanto parkour Che potrebbe farmi bestemmiare Per il resto credo che questo sia l'unico parkour che posso fare Ok, questo effettivamente mi fa volare Per molto molto poco tempo E non ho la minima idea di dove dover andare E no che non ne ho la minima idea Perché io al massimo posso fare così e niente E quindi, dove devo arrivare? Scusate C'è quella botola dove effettivamente potrei andare Ma sinceramente non ci tengo ad andare là Proviamo tipo ad aprire queste Magari c'è qualcosa No, perché sono tutti blocchi Anche lì mi pare Proviamo a tornare magari indietro Si, anche lì ci sono blocchi E quindi signori Esattamente dove cazzo a ruola devo andare? Porca puttana Anche perché sto blocco viola di merda Non mi dà abbastanza Come si dice Abbastanza tempo Ecco Per arrivare alle scale Che credo fossero l'unica parte dove poter andare E non ne ho idea signori Oddio No, 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 no Forse ho capito Forse ho capito ma spero di no Forse ho capito ma spero non sia quello che sto pensando Io spero vivamente di no Davvero Non avete idea delle bestemmie in caso Se è così come sto pensando Vuoi vedere che devo fare tipo parkour? Perché no? Non ho volato più Completamente a caso Ok Comunque stavo dicendo Volete vedere che devo fare tipo parkour sulle lanterne? Cioè davvero Se devo fare parkour sulle lanterne È veramente da figli di puttana È una cosa proprio incredibile Incredibile Porca troia No ma comunque non credo Perché non ho fisicamente il tempo di arrivare sulla lanterna Infatti E anche volendo Se arrivo su quella lanterna Non credo di poter arrivare lì Anche se effettivamente È l'unica cosa che potrebbe farmi arrivare lì E quindi Credo sia effettivamente quello che devo fare Sì ma è veramente da figli di troia Maledetti figli di troia Io direi che devo fare una cosa di questo tipo Sì ma non c'è il tempo per arrivarci là Boh allora sapete che vi dico Andiamo qui dove c'è scritto Knodel Rischiamo Cioè vediamo se qui ci porta a qualche parte Over air Ah Ok Quindi mi porta qui Completamente a caso Adesso rischiamoci pure qua E qui mi porta Vedete vedere che torno tipo all'inizio Oh sono tornato all'inizio Immaginavo E niente mi devo rifare tutto Mannaggia madonna E vabbè E vabbè Mi rifaccio tutto Che due coglioni Solo che Porco dio Maledetto Io lì non sto capendo come andare avanti E non voglio di nuovo usufruire Del nostro caro amico youtuber Di cui non ricordo il nome Che fa i video di millemila ore Da cui vedo tutti i livelli di sto cazzo di gioco Cioè tutti i livelli che non capisco Anche perché sono abbastanza sicuro di aver capito E cioè che bisogna farlo sulle lanterne Ma io non c'ho il tempo di arrivare sulla cazzo di lanterna Maledizione Porco cane Vabbè niente signori Ci vediamo dopo Quando ritorno lì nella stanza del re Maffanculo Maffanculo Che palle Allora signori Allora abbiamo un piccolo problema Nel senso Sono andato avanti Mi sono dimenticato di riprendere la registrazione Vi faccio vedere giusto qui come ci si arriva E oddio Non so se posso risalire Quanto pare No Credo Sì 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 Praticamente vi ricordate questa scala qui Dove io ho detto che probabilmente bisognava saltare sulle lanterne E quello ho fatto Con molte 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 bestemmie Mi è suonato il timer nel frattempo Infatti penso di stare gestrando da tipo Non lo so 50 minuti credo E niente Vabbè Questi sono dettagli Comunque sono andato avanti Qui comunque Come vi ho detto Sono salito poi dalla scala Facendo il parkour sulle lanterne Che è stato complicatissimo Sono uscito qui Poi si fa il giro E praticamente E si arriva in questa stanza Dove c'è questo pulsante Dove sopra c'è scritto Kings Favorite Music Quindi la musica preferita del re E ci dà questo foglio Ora Precisiamo una cosa Io ho visto il video del tizio Che vedo sempre Che fra l'altro adesso Che ho visto il nome Ve lo dico Si chiama Microtich O Microtich O Miciotich Non lo so Una cosa del genere Non Microtich Micotich 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 Vabbè Niente Cioè il nome è strano Se mi ricordo vi lascio il link in descrizione Perché qui è storto Perché c'è il muretto qui E non è centrato Che fastidio sta cosa Porca miseria Che fastidio Madonna santissima Non ci avevo neanche fatto caso prima Comunque Tralasciando ste puttanate Praticamente Lui ha chiuso l'episodio 3 Dove era arrivato Nella stanza del re Che si trova Fra l'altro qui sotto Dove noi possiamo pure scendere Già che ci siamo Ok Lui ha finito l'episodio Entrando qui E poi ha iniziato l'episodio 4 Che già aveva Questo foglio in mano E io non stavo capendo Come si facesse Quindi l'unica cosa Che potevo fare Anche se a lui Non l'ho visto fare E fare il parcours Sulle lanterne E niente Ho scoperto che Posso arrivare lì Dove ci danno sto foglio Il che vuol dire Che io tecnicamente Dovrei andare qui Esatto Posso interagire Che cazzo è tutto sto casino Che cazzo è Bene Non è incredibile Per arte Hai fatto bene Allora ti permetterò Di andartene Le guardie Al cancello Non ti bloccheranno più Ok E' scritto che Ha chiesto ai suoi ingegneri Di creare una shortcut Per arrivare lì Quindi tecnicamente Quella lì dove siamo andati prima È una shortcut Quindi adesso è libero Esatto Ok perfetto E' un casino per me Tradurre l'inglese Perché non lo so E niente Questo foglio Ce l'ho pure lasciato Quindi per l'appunto Come vi ho detto Il tizio qui Non mi aveva fatto capire Come fare Io ho dovuto fare Quel parkour di merda Sulle lanterne Che è stato complicatissimo Qui non credo ci sia nulla No a quanto pare Magari qui No Ok e niente Adesso ci troviamo nel cortile Che tecnicamente Credo di dover fare Un altro parkour Bello complicato anche qui Anche però io adesso mi chiedo Da dove si inizia Perché non vedo punto di inizio Ok credo sia questo Però signori il problema È che io adesso Non so bene Quanto ho registrato Nel senso Ho registrato Tipo un'ora Quasi penso Ma non so quanto effettivamente Uscirà di video Il che è un problema Potrebbe uscire un video Di meno di 10 minuti Il che non credo sia il massimo Per youtube E qui dove cazzo devo andare Perché credo di dover andare qui Ma a quanto pare no Non sto capendo Forse così no Dove devo andare No non si fa così Tra l'altro qui posso passare Attraverso ok Oddio ci sta pure la cosa È tipo tendone Quindi figo che si possa fare Oh regà Non sto capendo Dove devo andare Mannaggia la miseria Se riesco a fare Sto cazzo Di salto Niente vabbè Niente sono impedito E vabbè Niente qua Non so neanche saltare Mannaggia Chi sono io Porca miseria Ok sono riuscito Ad arrivare qui sopra Qui c'è uno slime block Il che vuol dire che In qualche modo Devo arrivare da lì sopra Però suppongo Di dover andare qui Ok Perfetto Ok si va qui sopra Vabbè a sto punto Cerchiamo di finire pure sta parte Così eventualmente Nell'episodio successivo Ok Dicevo così Nell'episodio successivo Eventualmente Cerchiamo di andare avanti Mannaggia Chi sono io Mannaggia Ma porco dio Ma vaffanculo Che palle Vabbè Non è difficile arrivare lì sopra Solo che Non ho capito Per quale cazzo di motivo Dallo slime block Non è riuscito ad arrivare lì Cioè tecnicamente Meglio di così Non posso saltare A meno più in alto Non credo Riproviamoci Cerchiamo di finire sto livello Che tanto sembra relativamente facile In questo episodio Sperando non mi esca un episodio di mezz'ora E poi nel prossimo episodio Andiamo avanti Mannaggia la puttana Ma perché non riesco a saltare Porca miseria Guarda Ma ce l'ho fatta prima Ma che cambia da adesso A poco fa Ma porca miseria Allora Facciamo così No Facciamo così E poi così No Ce l'avevo quasi fatta Però almeno l'ho toccato Ok no Porca miseria Allora Devo controllare una cosa Non credo che Io debba andare lì Nel senso Se faccio così No Però a sto punto Almeno si salti Li vorrei riuscire a fare Tense problemi Ok Allora sì Effettivamente sì Devo andare lì là per forza Quindi vuoi o non vuoi E qui che devo andare Però devo arrivare tipo all'angolino Esatto esatto E porca miseria Però ho sbattuto col mouse Contro la tastiera Che fastidio E dai però Ovviamente adesso Non sto riuscendo più a saltare Per il semplice motivo Che due secondi fa Ho detto Che questo livello Sembra relativamente facile E ovviamente sappiamo tutti benissimo Che io sono il re dei gufatori Peggio disinergo Di quei due Sul server Mannaggia la miseria Però funziona solo con me stesso E a quanto pare Cioè se dico che succede Qualcosa a qualcun altro Non succede Però se lo dico a me stesso Cioè Se mi dico Da solo che una cosa è facile Col cazzo che poi La riesco a fare Ma Scunca Ma è possibile Scusa Però sull'albero è salito Senza problemi Ma vabbè Non l'ho capita con sta cosa Vabbè Perlomeno sono riuscito Ad arrivare qui Facilmente Ok Facciamo sto parkour del cazzo Facciamo così E così Ok Andiamo qui sopra Tecnicamente questo Non dovrebbe essere un problema Tanto prima l'ho fatto Tutto di corsa Infatti A sto punto però Oh ok Dovevo prendere tipo Danno a quanto pare E qua che succede? Non sto capendo Che fa sto coso? Eh Dice che tipo Dovrei volare Ma non mi pare Che mi stia facendo volare Ah forse mi dà tipo l'effetto No ho sbagliato Scusate Mi dà tipo l'effetto Per qualche secondo Credo Perché se no Non ne ho idea E ma a sto punto E niente Mi dava l'effetto solo lì sopra A che mi serviva? Mi serviva per arrivare qui Però non mi pare Duri abbastanza Cioè si è buggato pure L'effetto Non lo so Cioè adesso Tecnicamente devo ritornare Qui lì sopra Scusate Che fra l'altro Devo riuscire a saltare In modo tale Da prendere danno E non si sa perché Quando prendo danno Vado più in alto Ma vabbè Non facciamoci domande L'unica cosa è che devo capire adesso Come cazzo allora devo fare Ok E poi E niente E poi lì sopra Devo fare perché se no Non riesco a capire Ci vediamo appena torno di sopra Allora signori Da quanto ho capito Siccome l'ho rifatto altre 3-4 volte Questo boost Che mi dà gli in alto a destra Semplicemente mi fa saltare Tipo un blocco in mezzo O due E io c'ho pochissimo tempo Quindi devo passare tipo Qui dentro Per poi riuscire ad arrivare Tipo qui Dove c'è il salto esatto Che mi porta nel livello successivo Quindi livello 44 Perfetto Siamo arrivati nel livello 44 Dove c'è un cavallo Tipo imbalsamato Perché sta fermissimo Che si chiama mystery Che posso anche cavalcare Quanto pare Ma non posso fare nulla Ok Ma quanta vita c'ha C'ha due 20 C'ha 26 di vita Madonna santissima Cioè non c'ha neanche l'armatura Con l'armatura tu sei potentissimo Amico mio E vabbè niente signori Siamo nel livello 44 Perlomeno stiamo procedendo Qui ovviamente non si potrà andare avanti Infatti lì c'è un villager Con una benda bruttissimo Comunque signori Direi che questo livello 44 Ce lo facciamo nel prossimo episodio Perché per l'episodio di oggi Ho registrato veramente troppo E soprattutto Siamo riusciti a fare più che abbastanza Visto che siamo riusciti a uscire Da quel castello di merda Perciò direi che Continuiamo nel prossimo video Quindi signori Con sullo sfondo Il nostro bellissimo Cavalluccio mystery Un bellissimo albero E una bellissima torcia Alla mia sinistra Barra destra Dipende da come È il vostro punto di vista Direi che per il video di oggi è tutto Se vi è piaciuto mettete like Se non vi è piaciuto Mettete di dislike Ma commentate dicendomi Cosa non vi è piaciuto In modo tale che possa migliorarmi Se è visto simpatico Iscrivetevi Magari attivate la campanella Che a me come al solito Non ti spiace mai E noi ci vediamo nel prossimo video Ciao